Ciao a tutti, qui Drake512. Per l'ennesima volta Crono ce l'ha con me, di conseguenza ho poco tempo e quindi mi tocca fare un video molto breve. Andiamo dritti al sodo. Il 27 maggio c'è stato questo nuovo evento live digitale dalla Capcom dove ho fatto vedere novità sul aggiornamento 3.0 di Monster Hunter Rise e di Stories 2. In questo video mi limiterò un breve sommario degli annunci più importanti che ho fatto, poi vedrò se è come fare un video più elaborato in un futuro lontano. Il video ovviamente conterrà degli spoiler. Partiamo da quello che ha mostrato su Monster Hunter Rise e direi di cominciare col protagonista assoluto dal trailer, il Vastrax Cremisi. Il Vastrax, che fece il suo debutto su Monster Hunter Generation Ultimate, lo vediamo tornare su Rise sotto forma di una variante nuova nota come Vastrax Cremisi, Crimson Glow Vastrax in inglese. Oltre ad avere un aspetto estetico diverso, sembra anche avere attacchi nuovi. Abbiamo visto anche l'Apex Zinogre, che ricorda molto il Fulgur Zinogre che abbiamo visto su Generation. L'Apex Zinogre sembra avere anche degli attacchi in comune con il già citato Fulgur Zinogre, ma anche degli attacchi completamente inediti. Vediamo anche l'Apex Rathalos e l'Apex Diablos apparire al di fuori dalle missioni furie, rispettivamente nelle caverne laviche e nelle piane sabbiose. Senza dimenticare che anche l'Apex Zinogre sembra che sia possibile affrontarlo al di fuori dalle missioni furia. Verso la fine possiamo vedere gli busci del vento e la narva del tuono ricongiungersi insieme. Questo fa alludere ad una possibile missione dove dobbiamo affrontare i due dragonziani o contemporaneamente, o che si alternano tra di loro o che collaborano in qualche modo. Alla fine del trailer possiamo vedere una tabella di marcia dove mostrano diversi piccoli aggiornamenti distribuiti nell'arco di tutta l'estate. Questa tabella ci indica l'arrivo di missioni evento e di collab con altri titoli della Capcom a cadenza mensile. La stessa tabella fa intuire la presenza di almeno un altro mostro presente in questo aggiornamento, oltre a Vastrax e all'Apex Zinogre. Sinceramente spero nella presenza o del Devil Joe o del Ner Gigante, ma che rimanga tra noi, è solo una mia speculazione. Il sito ufficiale di Monster Hunter Rise vi porta informazioni come nuovi mostri che appaiono nella sala di raccolta, nuovi mostri che appaiono nelle missioni furia, nuove missioni, una nuova mappa, delle nuove armi, delle nuove armature, delle nuove abilità, la possibilità di cambiare l'aspetto delle armi furia, nuovi premi per la tassera gilda, nuovi contenuti cosmetici a pagamento scaricabili da Nintendo e Shop. Tuttavia è stato detto tutto in maniera molto vaga, quindi terrei delle aspettative basse io se fossi in voi. L'aggiornamento 3.0 di Monster Hunter Rise ve l'ha rilasciato stanotte a luna, stando però al fuso orario del Regno Unito. Quindi l'aggiornamento ve l'ha rilasciato il 26 o il 27 maggio, a seconda del vostro fuso orario. Su Rise è tutto, passiamo a Stories 2. Il trailer è incentrato su questi particolari fasci di luce che in qualche modo rendono i mostri particolarmente furiosi, noti come Raggi Furia, Rage Ray in inglese. I mostri influenzati da questi Raggi Furia manano un bagliore fucsia dagli occhi e da altre parti del corpo. Oltre alla Diabosmera e all'Agnar Gigante assistiamo anche all'apparizione dell'Astalos, con tanto di piccola atticipazione del suo attacco legame. Per quanto riguarda i personaggi assistiamo al ritorno di Dede e di Avinia. Dede è uno strano sciamano che ci insegna tutto per quanto riguarda i geni su Monster Hunter Stories 2. Avinia invece è una ragazza rider che si presenta sempre col suo Bariot più fidato, noto come Frostfang Bariot. E no, non ha niente a che vedere col Bariot assiderato di Iceborne. Come personaggio nuovo si vede uno strano gatto che a quanto pare sembra un volto familiare per Navi U, ma non sappiamo nient'altro. Il resto è tutta roba che più o meno sapevamo già. E con questo ho riassunto tutte le novità principali di quello che hanno fatto vedere su Rise Stories 2. Ma prima di finire devo parlare di una cosa. Diciamo che comincio con le magagne su questo canale, perché ad inizio mese mi è arrivata la mia prima segnalazione di violazione di copyright sul canale. Il video incriminato era quello dove parlavo dei bug dei talismani di Monster Hunter Rise. Il mio video che ha fatto più viso al fine adesso. A quanto pare il video includeva del materiale protetto da copyright da parte di una certa compagnia famosa del mondo del wrestling. Il video era stato temporaneamente bloccato, ma fortunatamente sono riuscito a sbloccarlo tagliando quella parte. E perché sono andato ad un certo, chiamamolo, Vincenzo, e io ho fatto Lascia che ti dico una cosa, fratello! Cosa ha intenzione di fare quando la Dreycomedia si scatenerà su di te? Bagianata a parte, va detto che... Eh, pace, andata come andata, farò più attenzione col copyright. Solo a vostra richiesta, vi lascerò un link in descrizione della parte incriminata tagliata. Detto questo vi saluto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!